smile and learn come va ragazzi oggi parleremo di avevo una rana sulla testa e non mi avete detto niente che paura allora oggi vi parlerò di un altro gruppo di animali vertebrati gli anfibi gli anfibi sono animali ovipari ovvero nascono dalle uova i cuccioli nascono nell'acqua e respirano attraverso le branchie crescendo possono vivere sia in acqua che sulla terra e respirano attraverso i polmoni e la pelle la loro pelle è umida e non hanno peli sono animali dal sangue freddo ovvero la loro temperatura corporea varia a seconda della temperatura dell'ambiente circostante sapevi che gli anfibi sono gli unici vertebrati che quando nascono hanno la coda e vivono nell'acqua quando diventano grandi gli crescono quattro zampe e vivono sulla terra questo cambio si chiama metamorfosi e questo è tutto sugli anfibi amici spero vi sia piaciuto io rimango qui con la mia nuova amica a presto ti è piaciuto il video ne abbiamo molti altri clicca sulla foca per iscriverti al canale smile and learn e se vuoi continuare a imparare fai clic sui riquadri